salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo la nostra avventura qui su foundation stiamo ancora gestendo il nostro paesino sto vedendo abbiamo ancora la missione questa qui del lupolo che deve essere ancora completata ora velocizzano attivino il tempo allora vediamo se abbiamo stoppato no interrompi produzione sono questi tutte le volte se lo vanno a prende e non riusciamo ad arrivare appunto alle 100 unità che ci servono per questa per questa missione stiamo a 78 questo starà in fase di raccolto che quindi dovrebbe andar bene adesso il tempo che questi raccolgono il il lupolo e dovremmo poterla completare allora ci dà allorgi insufficienti questo è sempre un cavolo di problema questi diamo un attimo infatti c'hanno conforto meno cin meno 15 per cento così sono paesani ci serve un punto dove poterlo far far crescere ovviamente far costruire la sua casa ma se riesca a riprenderlo questa dove va a lavorare posto di lavoro ok a sta lavora nella nella nuova locanda abbiamo fatto qui o aspettate c'è un messaggero legna per il vescovo riesco a cercare di costruire va bene 150 in 15 giorni noi ce l'abbiamo 64 per il momento vabbè accettiamola accettiamo pure il migrante e dovete sta un attimo fermi qua stoppiamo un attimo esiguerie qui perché altrimenti non ci arrivamo il lupolo quanto stiamo ancora 78 scusa mi diceva raccolta mi diceva essere che ci mettono un pochetto allora dicevo dobbiamo cercare di aumentare il la parte abitativa per quanto riguarda l'appetibilità diciamo perché altrimenti quello lì non essendo quella personale non essendo un servo quindi diciamo non si accontenta tra virgolette di un posto normale come queste case qui serve una casa meglio costruita un po tipo questa qui quindi serve una zona più alta come attrattività diciamo allora in questa zona 30 altra ovviamente soltanto per quanto riguarda la zona questa qui con la locanda dovremmo cercare di aumentarla un pochettino magari facendo degli delle decorazioni insomma installando delle decorazioni altrimenti potremmo fare anche un'altra cosa allora vediamo un attimo se qua riusciamo in tempo ad arrivare a sti fatidici 100 unità potremmo fare perché qui sto vedendo che arriva un pochettino tardi la cosa delle tasse l'esattore delle tasse che si vede che facendo tutto il giro del paese arriva decisamente molto lento da questa parte quindi volendo potremmo costruirne un altro qui allora vediamo se mi ricordo come si fa amministrazione casa padronale ok io direi che possiamo farlo anche qua sì 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 che c'è spazio tanto qua non ci hanno costruito e ci facciamo l'ufficio in posta anche perché avendo sbloccato delle nuove cose ci sono anche delle strutture molto più carucce rispetto a quelle base e secondo me tipo ufficio questo in pietra vedete quanto è bellino potrebbe essere veramente al coso nostro ovviamente lo giriamo cerchiamo di metterlo senza che rompa un po troppo le scatole io metterei quasi quasi tipo qua quasi sul ciglio del burrone ma cerchiamo di sfruttare il più possibile se no dovrei avvicinarlo perché così la parte posteriore diciamo del cerchio di azione è inutile se no dovrei metterlo qua lo piazzo proprio qua ragazzi tanto una strada già c'è il cerchio è abbastanza ampio prendiamo un po un bel po di gente dai piazziamolo qua costruisci ok ci sta poi tecnicamente dovremmo togliere quelli che ci danno il malus cioè questi questi sono la diciamo la birrerie magari potremmo spostarli da un'altra parte così togliamo questa zona di malus e magari riusciamo appunto a crescere l'appetibilità del nostro della nostra zona allora abbiamo terminato qualcosa questa qui del luppolo possiamo consegnarla e via svuotamo tutto il luppolo necessario qui potete riprendere a lavorare grazie ok che lavoro consegnato apposto ci ha dato 5 influenza sulla mano d'opera che insomma stiamo già abbastanza bene un immigrato ancora sta arrivando qui stiamo a 136 su 150 abbiamo ancora sette giorni vediamo se riusciamo in tempo perché insomma ovviamente ora più stile avanti più le richieste sono sono alte quindi dobbiamo cercare di presta un po più attenzione allora qui hanno già iniziato a lavorare ottimo ci manca della pietra levigata le assi insomma ci abbiamo tutto il giusto il tempo che che la che li portano qui nella nella costruzione allora vediamo un attimino perché qui a bella felicità stiamo all 85 per cento piano piano sta diminuendo quello della fiera desolata che l'ultima fiera insomma non è che è andata molto bene tasse meno 5 per cento ma insomma le tasse ci ci servono solo non abbiamo introiti che sono 130 senso ma per il momento di soldi non stiamo messi assolutamente male ma è un attimo insomma sapete appena si costruisce qualcosa e si fanno si fanno migliorie è un attimo che si fa perdere un po tutto il gruzzoletto allora i tassi per il momento possiamo pure lasciarle così basse per la gioia dei nostri paesani per quanto riguarda la progressione qui pur avendo già sblocchiato il livello successivo che ci andrebbe eventualmente a sbloccare l'allevamento di bestiame anche le candele non sarebbe male a parte le decorazioni 250 monete d'oro vedete come poi i soldi vanno vanno via un attimo edito sul commercio all'ingrosso edito di promozione lavorazione della pietra ok questo che è edito sui materiali robusti oggetti comuni secondo me questi andrebbero fatti perché o li facciamo noi li dobbiamo comprare perché aumentando i cittadini cioè il livello dei cittadini questo barista perché non c'è non riesco a trovare una casa adeguata per il mio status vedete questo ancora non c'è niente manco questo i sia barista che i birrai che stanno da questa parte però aspetta questa la sta penso la stia modificando perché prima c'era qua cacchia l'avevo vista quindi sarà sicuramente in upgrade allora qui l'abbiamo terminato quindi possiamo dire al vescovo qua di prendere quello che gli serve abbiamo 10 influenze al clero ma qua già stavamo messi veramente male meno 23 insomma non proprio il top dovremo appunto cercare di abbellire questa zona e come diceva magari togliere sti malus che abbiamo qua sia la cosa della legna sia per quanto riguarda il il birrificio qua dobbiamo necessariamente spostarlo allora qui di spazio ce ne starebbe questi che cosa hanno bisogno a parte vabbè l'acqua il lupolo il grano loro il grano dove lo vanno a trasportare qui no lo vanno a portare qua a mesa sì ok e vabbè quindi se lo spostiamo da questa parte non dovrebbe essere troppo complicato per loro il pozzo io mettiamo vicino e perlomeno li spostiamo da qua sopra si si può fare allora taglio un immigrante quanti ce n'abbiamo di gente che è arrivata più che altro perché per il momento non stiamo piazzando nessuno a lavorare se no evitiamo di insomma farli arrivare ma poi non non sappiamo dove metterli vabbè però ne abbiamo tre poi non arriva in altre e poi ci fermiamo in attesa appunto di poterli piazzare da qualche parte allora dicevo possiamo crearci intanto un altro birrificio da queste parti qua magari più lo mettiamo limitrofo e meglio è pur sacrificando anche della della vegetazione non è non è un problema guarda ne piazzo veramente due vicini ok così stanno stanno a posto e ci serve anche il pozzo questo lo possiamo mettere pure qua ok perfetto così se devono fare una passeggiatina in verità perché devono arrivare fino a qua per recuperare la roba dal granaio però è uguale insomma dai c'è sì è un po più destrata ma poco insomma dai ci può anche stare allora velocizzo un attimo perché ovviamente qui stanno un attimo impicciati a costruirci la casa patronale che ancora deve essere terminata e qui l'hanno finita ok quindi hanno fatto l'upgrade di una casa che già abbiamo ora però occupanti su sei chissà se effettivamente ora quelli che non avevano posto ce l'hanno è messa di sì perché non ho più l'avviso e sì conforto meno scusa eh dove sei qua dovrebbe essere sto tizio sì conforto meno 15 però mi sei mi dice osserva casa quindi c'è la se vede che ci deve ancora andare ok per fortuna hanno fatto l'upgrade di quella già esistente quindi sono passati da due abitanti mi pare a sei o da tre a sei ora non ricordo e attimo così perlomeno abbiamo messo per ora una toppa però dobbiamo sistemarla sta cosa perché ora ci serve un altro paesano da far diventare appunto esattore delle delle tasse nel momento in cui termina sta sta casa patronale mancano materiali cosa mancano i cinghiali possibile credo ce ne sono sei mi sa che qua pure dobbiamo cercare di fare qualcosa di differente purtroppo qua comprare terreni e sassardi un po' mezzi buttati dannazione perché insomma sblocchi sto pezzo di di foresta diciamo che è utile sicuramente questi per la caccia sarebbero utili infatti a guarda avanti ce ne stanno però mi verrebbe a costa come sempre un sacco di sordi 125 ma stiamo pure in perdita in verità quindi per il momento non è proprio il caso di comprare assolutamente niente allora è arrivata un altro tizio ma per il momento l'immigrazione direi anche di fermarla appunto perché non saprei dove metterli allora secondo me c'è da fare un upgrade anche per la chiesa perché qui abbiamo solo 114 posti noi siamo 150 quindi urge un upgrade anche qua e noi facciamo un'altra un altro pezzo qua come sempre cerchiamo di mettere ok la fine stanno stesso punto questa più bassa però alla valzate così ok ce ne mettiamo due mettiamo pure dall'altro lato magari messa anche questa no stesso verso ok vai costruiamo anche questa così aumentiamo un po la la capienza e altra cosa che dovremmo fare secondo me è un altro mercato ragazzi perché comunque ora si stanno creando diciamo due centri questo qui sulla montagnola e quello nostro principale il problema è che questi sulla montagnola non sempre vanno al mercato di là o se ce vanno però se perde un sacco di tempo ovviamente e quindi mi sa che dovremmo cercare di fare un mercato pure da questa parte ora appena ci terminano le costruzioni dei birrifici intanto li togliamo da qua e iniziamo a spostare un po di cose anche la capanna qua del del legname l'andrei a spostare tanto per il momento dov'è che stanno lavorando allora qui e poi devono togliermi anche sta zona qua ok quindi volendo questa volendo la potremmo pure spostare da questa parte gli dirò di togliere anche qua successivamente sì direi 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 di sì anzi magari a sposto proprio subito e capanna del legname ok anzi la mettiamo mettiamola un po quasi a mettiamo un po lontana in verità però però va bene uguale dai velocizziamo un attimo la il tempo allora non abbiamo messo a capanna dei costruttori qui nelle vicinanze quindi se devono venire a costruire vengono da darvi l'aggetto giù e per quello ci metteranno un boato di tempo infatti vedete qui abbiamo tutti i materiali però insomma stiamo poco dopo la metà e penso che ci vorranno minimo in altri due due turni di lavoro infatti questa già finita e se ne va veramente poca poca roba e pure sto magazzino in verità dovremmo poterlo spostare però è perché sta legna parte le spade ok che ci servono a proposito di spade io qui ho costruito questi e va bene però c'ho solo cinque soldati però non ho costruito nient'altro cioè questa possiamo fare per esempio il campo addestramento che non è male facciamo un po un manichino di addestramento io lo metterei qui così mentre si allenano guardano pure sotto 1 2 riuscissi a mettere pure un po dritti 3 e 4 quanti ce ne avemmo 5 quindi dobbiamo mettere un minimo 5 vabbè mettiamone 8 dai tanto sicuro qualche altra regluta l'andremo a prendere e ok così credo che possiamo dargli le spade almeno che non possiamo già farlo adesso ops soldati sì armi ok eccolo spada 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 e spada ok però non sono addestrate quindi ci facciamo il campo di addestramento e poi visto che ci sono anche delle missioni possiamo iniziare l'affari dopo che sono addestrati sennò rischiamo di perderli e basta quindi passetta la volta e facciamo tutto quanto finché questo non si sbriga fa sta cosa e ci serve anche un paesano più già che ci stiamo lo diciamo lo facciamo subito prima che andiamo a finire tutti i sordi uno di quelli disoccupati lo promuoviamo qui quanti sono 5 di 6 quindi sicuramente il paesano nuovo può trovare alloggio in questa casa e poi sono pieni quindi poi bisognerà cercare di trovare appunto un modo per tirarsi un po questa zona se noi dobbiamo metterci o qualcosa appunto come le siepi che abbiamo messo qualcosa di decorativo io vediamo se basta la casa patronale che dovrebbe dare un po di slancio in più a questa zona sperando di invogliare appunto gli altri a a costruire allora questo lo hanno terminato ottimo quindi questo possiamo pure sbragarlo e automaticamente dovrebbero andare a lavorare qui a lavorare qui solo birraio ci abbiamo ok la chiesa l'hanno fatta ottimo quindi qui siamo saliti a 138 siamo comunque abbastanza bassini ma sa che ce ne vogliono altre due da un lato e dall'altra parte e si mesate sì perché perlomeno dobbiamo arrivare a 150 cosa che c'è io ce ne metto un'altra parte e due e acqua e che della si le devo alzare intanto le posiziono no troppo così e così ok poi eventualmente ci mettiamo pure una croce sopra per cercare di aumentare un po' la nostra influenza con il clero che stiamo veramente messi messi male di è siamo veramente a pezzi allora qui come stiamo messi pane tutto grano funziona tutto mi pare non si sono ancora lamentati o infice delle imposte l'hanno terminato ottimo così l'esattore lo avevamo già pronto quindi può iniziare perché vedete qua ci dice sono 16 su 42 insomma c'hanno delle imposte che non sono ancora state recuperate certo prima che arrivi a 42 ce vuole ora è aumentato penso perché no vedi questo per esempio sta su 14 su 14 questo pure insomma quindi vuol dire che non stiamo prendendo soldi in questo momento stiamo anche sotto sotto di molto di 100 e passa quindi nel momento in cui anche il diciamo l'esattore arriva in questa zona recupera i soldi che si sono accumulati qui e così loro possono riaccumularli che se no stiamo stiamo solo perdendo allora questa pure l'hanno terminata quindi qua lo possiamo togliere automai questi si è già spostato sì quindi dobbiamo aspettare che terminano quest'altro birrificio e togliamo pure sta zona qui poi come di consueto le strade piano piano che non verranno più battute si si sistemano da sole quindi ritornerà piano piano l'erba e si si toglierà la striscia perché un'altra cosa che ho letto nella nella wiki diciamo qui interno nel gioco è che le case non nascono dove ci sono già i sentieri quindi quando magari si va a liberare una zona tipo in questo caso anche se noi la segniamo come zona per la costruzione potrebbero appunto non nasce niente perché ci sono questi sentieri quindi loro negli spazietti che sono rimasti tra un sentiero e l'altro non ci vanno a costruire quindi dobbiamo aspettare che spariscono e sperare che basti allora questa com'è aumentata la trazione ok qui è media qui è alta perché ovviamente c'è sta sia la fontana che la il pub qui insomma quindi c'è abbastanza attrazione e vediamo un attimo magari per degli abbellimenti magari di cespuglietti in parte che questi costano pure un boato a noi per il momento si di soldi ne abbiamo ma siamo ancora in perdita dovrei provare a mettere qualche cespuglietto in giro però che non so vabbè per ora li metto così qua a caso e poi basta perché veramente abbiamo finito i sorti 20 ore a botta per il momento hanno costruito anche il primo manichino ops è andato troppo giù ottimo si ci manca ancora un po di roba serve un bel po di di stoffa ecco perché ce l'abbiamo noi non ci abbiamo un bel niente perché mai sa che tutta quella che viene prodotta in toriola dovrebbero produrre qua infatti produce una stoffa in cambio di trillana qui quanto ce ne stanno le stoffe zero appunto dobbiamo fermare un attimo ersarto scusi signor sarto placate un attimo perché sennò qui stoffe per creare i manichini lì non ce l'abbiamo qui quante pecore ci abbiamo due tre cinque ma sa si mettiamo in altro piccolina si ovviamente lui dice non abusarne però qui stanno terminando anche la chiesa perfetto questa qui di sinistra l'hanno già terminata mancano della pietra levigata addirittura notarmente utilizzata che siamo arrivati al limite a parte ce n'è uno solo che la crea e quindi ci sta insomma ma di pietra questo dove la va a prendere dov'è che produciamo pietra qua allora ok la prende la prende da qui quindi questi la lasciano qua ok secondo me devo fare un altro capanno di muratori perché ora che sto costruendo penso che la pietra levigata servirà sempre di più tanto di gente che non sta a fare niente ce l'abbiamo quindi sicuramente possiamo farlo e allora facciamo in altro capanno di muratori lo mettiamo sempre qua così se fanno compagnia ah non c'ho sordi e minchia quando è che vanno a fare l'altra l'altra raccolta di tasse e niente teniamola così stiamo sotto di 13 da nazione secondo me è tutta corpate da chiesa qua che c'è sta a togliere veramente un sacco di soldi allora l'altro birrificio pure è stato completato ok quindi questo lo possiamo togliere perfetto e dovremmo forse togliere pure sto magazzino da qua perché almeno loro la legna sennò questo veramente si deve fa tutta sta strada per arriva qua sopra insomma non è proprio il top questa ma la lascio un attimo aperta eccola a posto così vedevo subito appena rientrava qualche soldino e sto sto magazzino dobbiamo fare magazzino ok così così lo piazzo qua in mezzo così il tizio non si fa così troppa strada un po' in mezzo a cacchio così anche perché non so poi la legna qui chi la va a autorizzare cioè la legna che finisce qua io non credo che la vanno ad utilizzare ah aspettate a proposito di legna io devo rimettere a far partire i segheri ecco perché l'avevamo interrotte per via della missione ma ora che non ce l'abbiamo possiamo farle ripartire infatti sarà accumulata un bel po' di legname dicevo quello che che sta qui io credo che nessuno lo vado utilizzare in verità c'è sto presentimento vabbè comunque spostiamo il magazzino qua magari non proprio in mezzo così se dovessimo costruirci qualcosa non ci abbiamo sto problema mettiamolo qua in diagonale che ci può stare ma servono sorti cazzarola che non abbiamo nessun allora questo che vuole legno per gli anziani ok si diceva in abbondanza guarda tutto proprio subito che è questo certificano 150 più di 300 la voglia voglia a posto ok paghiamo anche questo così ci costruisce sto magazzino spostiamo la roba qui e roba che c'è da malus il magazzino non da malus però insomma roba che potrebbe non far crescere case lo abbiamo le abbiamo tolte c'era a me si sta avvicinando il villaggio ok c'era l'avviso di penso l'intrattenimento che mancava per qualcuno allora la chiesa l'abbiamo fatta siamo arrivati a 105 162 perfetto per il momento stiamo anche oltre io ci metterei anche delle chie delle croci magari in queste centrali qua ma sa che non ce ne va un'altra piccola acqua e mezzo se c'entrasse sarebbe ottima aspetta forse sì sì ok allora ho fatto bene a mettere al centro così fai uno sì uno no uno sì uno no uno sì uno no e poi mettiamo uno sì quelle finale vabbè poi c'è prima il campanile che non lo possiamo spostare se non dovremmo buttarlo giù ma assolutamente no allora questo hanno terminato no manca della stoffa ancora dannazione stavo un po indietro questa stoffa qui che cosa fanno a qui c'è solo l'igna ottimo abbiamo messo un bel po di legna da parte col fatto che avevamo fermato le la segheria qui ovviamente siamo riusciti insomma attiranno su allora qui abbiamo sempre lo spazio per quanto riguarda la fontana ma se non famo stato e la la vedo molto difficile quindi per il momento sta un attimo bloccata la ok messaggero sta avvicinando e qui dobbiamo aspettare che facciano le stoffe e via ok qui hanno fatto anche le le croci va bene stiamo sempre in pieno negativo proprio con per quanto riguarda il clero ma per il momento a posto così però almeno non stiamo bassi per quanto riguarda la capienza quindi per un po sappiamo che tutti ci possono entrare allora la celebrazione del lavoratore gli anziani vorrebbero che tu ospitassi una fiera regionale a ok è mo sperando che vada bene sta cavolo di fiera dai accettiamo ma è già arrivato un messaggero qua scambiare le bacche per il lupolo un gruppo di viaggiatore ha sentito che i monaci che vogliono 100 bacche quando ci arrivo e mi danno 100 lupolo e 50 di cosa non ce la faccio mi mi spiace ma però sarà per un'altra volta 100 bacche non ci arriverò mai già faccio fatica ad arrivare a sfamare i miei di di così 100 bacche mancano materiali vabbè qui è come sempre e però qui abbiamo delle bacche che non ancora sia la pietra che le bacche che non le raccolgo il granaio qua ce l'abbiamo però sta veramente qua sopra secondo me dobbiamo mettere allora riapriamo un attimo l'immigrazione e ci facciamo costruire la cosa di raccolta qua e questo e vabbè andiamo ad utilizzare un po di anzi no mettiamola qui dai perché in mezzo magari mi potrebbe servire e vabbè sacrificiamo un po di piante fatto questi comunque andavano abbattute prima o poi ne mettiamo una e ne mettiamo due e facciamo la raccolta di questa di queste bacche cadiamo se riuscola in piccoli il più possibile e niente penso che più di così ok perfetto allora sta roba questi l'hanno terminata di fare quindi possiamo intanto toglierla ed eventualmente ingrandire anche un po il parte che sta roba magari poi togliermi le stialberi possiamo ingrandire il campo di grano oppure spostarcelo qui sulla sinistra in modo da liberare sta zona a parte che non credo che ci vanno a costruire case qua in discesa che insomma c'è una bella discesetta vediamo un po io intanto lo vado a modificare così vediamo se seminano fino a qua sopra e magari lo togliamo un pochettino da qua so diamo un attimo ok già sta iniziando a farlo farlo dietro perfetto perfetto allora prima di salutarci ragazzi vediamo un attimino quanti sono senza lavoro 3 ok quindi il tempo che costruiscono a sta cosa delle bacche pure e qua ce n'ho altre che non stiamo utilizzando non è non è male secondo me che ce n'avemmo veramente 20 22 solo qua qui scusa che vendiamo la birra normale ok quindi qui diciamo non abbiamo grossi problemi secondo me di birra possiamo anche cederne un po non so qualcuno qua se la va a comprare ma sa di no vendi a loro sì la birra sì come stiamo messi soprattutto quante ne abbiamo modo da poter vendere qualcosa luce abbiamo 100 ma noi ne manco la vendiamo quindi tutto ciò che è sopra i secondo me 60 può andare bene ci abbiamo 100 unità di birra insomma a parte che la diciamo vendiamo e utilizziamo solo qui perché di qua stiamo utilizzando quella con con le bacche come sta andando qui la fiera sono tutti tranquilli contenti attualmente l'officiale del tuo garage è 75 voglio no aspetta attualmente siamo 89 il minimo è 75 quindi per ora sta andando a gonfie vele direi e qui l'hanno finita niente ci serve ancora sta cacchia ora di stoffa dannazione vabbè quindi buona che abbiamo iniziato insomma a venderci un po di birra almeno sono anche altri introiti in cassa che non è assolutamente male come cosa qui l'hanno finita sta magazzino no gli manca una picconata solo qui stanno lavorando sì ok meglio che abbiamo spostato sta roba qui sulla sinistra così non andiamo a rompere le scatole qua e ci ci liberiamo spazio eventualmente per la costruzione io credo che un'altra chiesetta qua andrebbe fatta perché questi se devono fa tutto il viaggio per arriva qua insomma che la che abbiamo in 70 ma insomma mi sa che abbastanza impicciata come come situazione qui non sono nate neanche altre case anche se non abbiamo avvisi per il momento di mancanza di abitazioni però mi servirebbe qualche casa un po più di alto livello allora mi sono stati stasiati bene bonus difficile 15 per 15 per cento per gli abitanti il viaggio con profilo abitante ottimo così stiamo al 101 per cento 100 per cento nessuno accesso a beni e lo so perché non li sto facendo stiamo cercando di rimettere da parte un po delle stoffe ma va a finire che le devo importasse stoffe cioè me le devo le devo comprare abbiamo sempre questo problema di stoffo devo mettere qualcun altro sempre con chi è i pecore se no me le devo importò e stoffa 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 eccoli qua vediamo un po compra finché l'inventario non arriva perlomeno a 10 poi spero di poter compensare con quelle nostre allora questa non è ancora terminata però il magazzino sì e magazzino qui ci dobbiamo mettere legno e spada allora aspetta no distruggi no perché sennò allora aspettate qua ci vai a mettere le spade ed il legno se noi lo distruggiamo mi sa che non in teoria li dovrebbero spostare da soli vediamo un po anche se non ci sono trasportatori qua perché sennò devo toglierne uno da qua due da qua vediamo se in automatico vanno su quest'altro tecnicamente sì dovrebbero spostarsi da uno all'altro vabbè sta a completare l'ultimo lavoro e poi dovrebbe spostare così spostano la roba e poi lo possiamo distruggere non so c'ho il dubbio che andassi a perdere la roba qua dentro poi dai su finisci quello che devi fare ok la fiera ancora sta andando benissimo attimo allora questo qui di raccolta l'abbiamo preso e completato perfetto non è venuto nessuno per immigrazione che cambio cioè che cambio che cacchio che cambio no perché stava leggendo scambio commerciale e scambio che cambio oddio allora quanti ne abbiamo qua altri due e tre se piazzano qua qui stanno a spostare roba manco per il cacchio perché non stanno spostando roba no aspetta qualcuno l'ha già presa ok 15 sono arrivati quindi qui possiamo anche distruggere e 15 ce l'avrà qualcun altro mano mese di legno vabbè legno sti cavoli insomma era sacrificabile eventualmente ok quindi quelli in automatico si spostano nella nuova posizione nessun accesso a intrattenimento infatti è questo qua ora non ho capito se è il tizio della fiera della fiera ok no questo chi è che non ha accesso a intrattenimento è qualcuno che sta infilato dentro casa sicuro occupanti e niente devo aspettare che che risbuca però intrattenimento tecnicamente è la ah perché non c'è la birra di bacchie ecco per quale ragione ma scusa è possibile che non posso far vendere la mia di birra eh sì volendo sì però come cacchio vengono a portarcela qui proviamo un po' un attimo scusa eh questa è la sala comune questo è il birrificio che crea la birra con le bacche questa tecnicamente la dovrebbe andare a vendere però noi la birra dov'è che la la immagazziniamo la immagazziniamo qua sì esatto 20 ok e allora secondo me più che vendere da 20 in su quanto abbiamo messo qua eeeh per vedo che cacchio sta eccola ah da 60 però scusa mi dava che ce ne avevamo più di 100 eh 74 quindi alcune stanno qua dentro ah ok vedi qua ce ne hanno 48 ok ok si può fare boh spero che quelli là della birra arrivino a prendere se sti 20 qua però arrivano a prendere se sti 20 qua oh arriva anche nuova gente perché mi sa che tra il cibo e le cose con le bacche non non fa mon tempo secondo me cioè non siamo così veloci tra il quantitativo di bacche che riusciamo a recuperare e quanti poi ne creiamo con la birra e quant'altro allora qui c'è ancora un trasportatore su 4 possibile che non si sono spostati in maniera automatica questo fornaio meno 10 addirittura che succede scusami eh tasse manca intrattenimento visitatore estasiati e mi mancava bene ultimamente tu chi cacchio sei scusi signor fornaio chi sei tu? aspetta un po' vai più piano che non ti riesco a beccare eh si questo sta proprio messo male male intrattenimento birra birra di bacche eh capito se questi non non se la vanno a prendere la birra io non ci posso fare niente non ci posso proprio fare niente questa la stanno a fa un po' di birra di bacche ora questa anteriola dovrebbero piazzare qua per qua dovrebbero posizionarci sta birra eh devo vedere un attimo se se la vanno a prendere dall'altra ops scusate se se la vanno a prendere dall'altra dall'altro magazzino se no è un casino veramente allora la fiera comunque vada è andata è andata bene ottimo così va bene allora ragazzi io direi che ci possiamo anche salutare qui perché siamo andati veramente lunghini abbiamo sistemato un pochettino alcune cosette migliorato la la chiesa qui per fortuna sono finiti la parte dove potersi addestrare insomma quindi i manichini li abbiamo sarei curioso di vedere come funzionano dai allenate eccolo grande ma come ha mani nude fratello ho detto riprende ma scusa ma non ce l'hanno le spade perché ha mani nude se sta scusa gli avevo affidato delle spade a tutti eh scusa 2, 4, 5 perché stai con la a mani nude non lo so non l'ho capito il perché sta a mani nude per questo sì ma comunque vale come come esercizio eh no starò non addestrato c'è qualcosa che mi sfugge secondo me almeno che aspettate perché mi sa che se io non gli faccio la cosa per le armi a strellire per armi loro qui non non ce l'hanno cioè noi ce l'abbiamo in magazzino ma non vanno a piassela credo eh anche se è una decorazione questa più che altro vediamo un attimo eh io gliel'ho assegnata tecnicamente dovrebbero utilizzarla se no scusa destrasse a mani nude eh insomma non è una cosa buona questa nasce in un'altra casa di quelle normali purtroppo speravo in qualcosa di più alto livello però va bene allora direi che ci possiamo anche salutare qui ragazzi io come sempre vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao grazie a tutti